Eccomi per la seconda sfida Bocca-Pied Challenge, Math Food Challenge, proposta dall'Associazione dei pittori che dipingono con la bocca e col piede. Dipinge o disegna un animale e io ho scelto il mio animale preferito, il gatto. Lo farò un po' fantasioso, un po' stilizzato e con tanti colori e forme. Guardate il mio magnifico piede destro all'opera. Per dipingere il nostro gatto facciamo una riga verticale, lunga la grandezza del gatto, non deve essere perfetta. Facciamo un cerchio più piccolino, proseguiamo, lasciamo un po' di spazio e facciamo un altro cerchio più grande. Non deve essere preciso, quindi lo possiamo fare a mano, più o meno. Ora uniamo la parte sopra e la parte sotto in questo modo. Facciamo un gatto stilizzato da dietro, quindi questa sarà la testa, questa sarà la parte dietro del gatto. Dalla linea facciamo proseguire un'altra linea che sarà la nostra coda. Un gatto stilizzato naturalmente, facciamo la parte sotto un po' più, sistemiamo il cerchio in modo che risulti la parte dietro del gatto. Facciamo due orecchie, poi lo disegneremo in maniera un po' fantasiosa questo nostro gatto. E quindi, per esempio, lo dividiamo in quattro parti qui, in quattro parti qui, così disegneremo in maniera diversa. Allora, per esempio qui faremo dei cuori. Usiamo gli acquarelli e ci sbizzarriamo con i colori. Allora, per esempio, lo dividiamo in maniera diversa. Allora, per esempio, lo dividiamo in maniera diversa. Ecco il nostro gatto e ora la firma.